Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo come sempre ben ritrovati qua nel solito, usuale e a voi ben conosciuto disordine della mia libreria. Torniamo ad usare questo bellissimo libro di Luigino Cagliaro, eccolo qui, Legendary Warbirds, per farvi vedere le foto dell'aereo di cui parlo questa sera. Eccolo qui, il Douglas SBD Dauntless, bombardiere impicchiata della Marina degli Stati Uniti d'America. Eccolo qua, guardate che bello, cioè inutile, non c'è niente da dire, Cagliaro è un assoluto maestro della fotografia è probabilmente uno dei più grandi fotografi aeronautici di tutti i tempi. Le sue foto sono eccezionali, i suoi scatti sono meravigliosi e questo libro mi è veramente molto molto utile per questo canale perché, avete visto, l'ho usato più di una volta per parlare di aerei. Il Douglas SBD, un vero cavallo da tiro, bombardiere impicchiata dalle caratteristiche di volo eccezionali, aereo robustissimo, stabile e preciso nelle picchiate. Ha vissuto da protagonista le più importanti battaglie navali nel Pacifico dal 1941 al 1944. Ripeto, progettato espressamente come bombardiere impicchiata, eccezionalmente robusto, con una struttura in grado di sopportare danni che avrebbero letteralmente distrutto qualsiasi altra cosa e che grazie ai suoi caratteristici freni di picchiata forati, questi che vedete nella foto di Cagliaro, questi sono i freni di picchiata che venivano estesi durante l'attacco per rallentare e stabilizzare la picchiata. C'è un aereo eccezionale che, grazie alle sue caratteristiche, si meritò il soprannome giocando sulla sua sigla operativa SBD, si guadagnò il soprannome di Slow But Deadly, ovvero sia lento ma mortale. E se ne accorsero i giapponesi al Mar dei Coralli quando per la prima volta dopo sei mesi in cui avevano fatto fuoco e fiamme e conquistato praticamente mezza Asia, questo simpatico trappolone gli tiro giù una portaerei leggera e alcune navi bloccando così il tentativo di invadere la nuova Guinea. Un aereo, ripeto, eccezionale, un aereo robustissimo, un aereo che ha veramente cambiato il corso della guerra. Se vi dovessero chiedere quale aereo ha veramente cambiato il corso della guerra, uno può pensare al Spitfire, uno può pensare al Mustang, uno può pensare al B-17, il B-24, il B-29. Errore. L'aereo che più di ogni altro ha contribuito veramente a segnare il cambio della marea, a segnare la riscossa per gli americani, l'aereo che più di ogni altro simboleggia, se vogliamo, l'inizio della fine per il Giappone, è questo modesto, lento, apparentemente goffo bombardiere impicchiata della marina degli Stati Uniti d'America. Perché? Perché durante la battaglia di Midway 50 Dauntlers attaccarono le portaerei giapponesi e in meno di due minuti ne affondarono tre. E quello fu l'inizio della fine per la marina imperiale giapponese, fu l'inizio della fine per le ambizioni di conquista del Giappone. Per sei mesi i giapponesi avevano fatto veramente fuoco e fiamme. Per sei mesi il Giappone era stato invincibile ed era passato volando di vittoria in vittoria, indubbiamente. Ma 50 di questi aerei, con un attacco determinato, ben condotto, con un attacco, si può dire veramente, da veri samurai, 50 di questi aerei distrussero tre portaerei giapponesi in due minuti, dando ragione all'ammiraglio Yamamoto. Yamamoto, quando si mise a preparare i piani per l'arbor, disse semplicemente «Io sono sicuro che per i primi sei mesi passeremo di vittoria in vittoria. Dopo io non posso garantire che potremo vincere la guerra». Yamamoto sapeva benissimo che il Giappone aveva poco tempo prima che gli americani, prima che l'America scatenasse la sua potenza industriale, scatenassero, insomma, prima che gli americani mettessero sul piatto della bilanza del conflitto le loro risorse pressoché inesauribili. E il simbolo più efficace, il simbolo più tangibile, se vogliamo, della riscossa è questo, il Douglas SBD Dauntless, l'aereo che durante la battaglia di Midway distrusse quattro portaerei giapponesi, ripeto, prima cinquanta Dauntless ne fecero secche tre portaerei giapponesi in due minuti. Il giorno dopo l'ultima portaerei superstite sempre fatta fuori da questi aerei qua, i Dauntless. apparentemente sgraziato, sicuramente poco elegante, però era un aereo che volava bene, era un aereo amatissimo dai piloti, un aereo pressoché indistruttibile, un aereo che faceva il suo dannato lavoro, ovvero sia bombardare in picchiata le navi nemiche, lo faceva dannatamente bene e i giapponesi se ne accorsero a loro spese durante la battaglia di Midway. Poi nel corso degli anni il Dauntless continuò a servire nella marina americana fino a che non fu sostituito dal più moderno e prestante Graman Avenger e da quel simpatico carognone bastardo e maledetto del Curtis Helldiver che è un altro aereo di cui parleremo presto. Insomma, Douglas SBD Dauntless, un protagonista assoluto della Seconda Guerra Mondiale. l'aereo che ha praticamente da solo ha distrutto le ambizioni, ha fermato 50 Dauntless che fermano l'apparentemente invincibile macchina da guerra nipponica dopo sette mesi di trionfi indiscursi. Tutto qua. Quindi, cari signori, io, Legendary Worldbirds, vi salutiamo, vi ringraziamo come sempre per l'attenzione e come sempre, ancora, di nuovo, arrivederci al mio prossimo video. Buonasera. 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 Grazie.